Il recupero della storica caserma Tofano torna al centro dell'attenzione istituzionale. Il sindaco Paolo De Maio ha chiesto l'interessamento del parlamentare Piero De Luca per sollecitare quanto prima possibile un incontro con la sovrintendente Raffaela Bonaudo. Dopo il sopralluogo effettuato lo scorso ottobre, tra il primo cittadino e la massima funzionaria del Ministero della Cultura, sulla caserma Tofano sarebbe calato il silenzio. Un protratto silenzio della sovrintendenza di Salerno che avrebbe generato forti perplessità da parte dell'amministrazione nocerina, circa il possibile recupero funzionale della struttura di grande valenza storico-architettonica situata al centro della città, di cui però non si conosce nulla. Un recupero parziale che potrebbe già essere avviato con le risorse del finanziamento ministeriale di circa 5 milioni di euro accordato dal precedente governo in carica. L'amministrazione De Maio ritiene la Tofano un punto cardinale del parco urbano archeologico che vorrebbe realizzare mettendo insieme la villa comunale, il castello del parco, San Giovanni in parco e le altre strutture storico-religiose della collina. L'ennesimo incontro tra le parti dovrebbe servire proprio a condividere gli sviluppi del progetto relativo alla caserma Tofano, ormai da troppo lasciata inspiegabilmente nel degrado del tempo.